Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Anche oggi vi ricordo, come sempre, di iscrivervi a questo canale YouTube, se non l'avete già fatto, a tutti quanti i social che trovate in descrizione. Vi ricordo anche, come tutte le volte, che sempre in descrizione trovate anche il codice sconto da poter utilizzare sullo store di Beer & Wine. Mi raccomando, andate a comprare su Beer & Wine perché stanno investendo tanto anche sul mercato homebrewer. Infatti, durante la pausa estiva, nostra pausa estiva, in realtà loro sono sempre stati aperti, hanno sempre lavorato, e si sono trasferiti e hanno ampliato il loro magazzino. Quindi, segno che stanno investendo sempre di più anche sul materiale per homebrewer. Quindi, comprate, comprate, comprate. Sigla! Eccoci qua. Come ho sempre sostenuto, la contropressione non è soltanto un metodo per poter imbottigliare birra già carbonata, ma anche e soprattutto, anzi, un metodo per poter trasferire ed imbottigliare birra non carbonata, che andrà poi a rifermentare in bottiglia. Questa è la giusta premessa per un'altra premessa. Come sapete, il framezilla che io utilizzo per le mie fermentazioni non ha un rubinetto che possa permettermi di trasferire la birra a caduta. Infatti, l'unica cosa che ha il framezilla è un rubinetto per lo spurgo, che rimane sul fondo, non utilizzabile, chiaramente, per l'imbottigliamento, e due connettori in alto, in uno dei quali si può appunto attaccare un tubo con una sfera galleggiante, però galleggiando, chiaramente, non può trasferire a caduta. Qual è quindi l'unico modo per poter trasferire la birra, o comunque è quello più consigliato, per poter trasferire la birra dal framezilla a un altro contenitore? è la contropressione, quindi dare una pressione di CO2 alla parte vuota, diciamo, del fermentatore, spingere la birra che, a sua volta, entrerà nel tubo collegato, del tubo di silicone collegato alla sfera galleggiante, e uscirà appunto dal connettore, e quindi poi andrà nel contenitore di arrivo. Ora, questo concetto chiaramente lo utilizziamo sempre quando si parla di birra già carbonata, a maggior ragione lo possiamo utilizzare con una pressione molto molto inferiore quando parliamo di birra non carbonata. In quel caso, chiaramente, utilizzeremo molta meno CO2, perché lavorando a una pressione molto minore avremo molto meno spreco di CO2, quindi la bombola ci durerà molto di più, allo stesso tempo ridurremo al minimo anche quelli che sono i rischi, perché comunque lavorando in pressione, soprattutto se non siamo molto esperti, c'è sempre comunque un rischio, ok? Se lavoriamo a 10, 12, 15, 20, 30, addirittura PSI, il rischio è bello alto. Se dovesse, diciamo, andare storto qualcosa a 30 PSI di pressione, è molto diverso che se qualcosa va storto a 3 PSI, ok? Quindi diciamo che questo metodo, che vedremo nel video di oggi, è consigliabile anche per chi ha le prime armi con la contropressione. Il concetto di trasferimento ed imbottigliamento di birra non carbonata in contropressione è un concetto che io ho sempre portato avanti, sia in questi video che faccio sul canale, ma soprattutto anche nelle live alle quali mi è capitato di partecipare durante la quarantena e durante gli ultimi tempi. Quindi il problema qual è? È che è sempre tutta teoria. Io non avevo ancora mai, in realtà, utilizzato questo metodo sulle mie birre. Ma questo perché? Perché è sì vero che è da più di un anno che mi sto muovendo all'interno del mondo della contropressione e sto facendo varie prove, vari tentativi, ma allo stesso tempo quello che mi preneva di più imparare era appunto lavorare con birra già carbonata, ok? Quindi io da più di un anno sto lavorando sempre su tutti gli stili, su tutte le birre, con birre carbonate, quindi sto sempre imbottigliando birre carbonate. Un po' per questo, un po' perché comunque dovevo fare i test su hard pressure e quindi mi serviva birra carbonata per poter portare avanti i test e portare in fondo, diciamo, il progetto e quindi ho sempre carbonato forzatamente, ho carbonato in fermentazione tutto. Infatti, per farvi un paio di esempi, ho prodotto una season e una double che sono stili che comunque sulla carta, diciamo, storicamente andrebbero rifermentati, le ho fatte con carbonazione forzata. Allo stesso tempo anche una bitter l'ho fatta con fermentazione in pressione, birra anche quella che storicamente, diciamo, che andrebbe rifermentata, ok? Quindi, negli ultimi tempi non avevo mai lavorato su birra liscia. L'occasione per lavorare e subire a liscia mi è arrivata quando ho prodotto, ho deciso di riempire la botte che da tempo era lì ad attendermi con un barley wine. Ho prodotto questo barley wine circa quattro mesi fa, l'ho fermentato nel framezilla fino ad FG, una volta arrivato a FG, 20 litri di quei 25-30 che erano usciti dal fermentatore li ho messi in botte. Come ho fatto a metterli in botte? E qui arriva l'argomento del video. Mi sono costruito un accrocchio per poterlo fare. Andiamola a vedere. Ho preso un tappo di silicone con foro centrale, un tubo di ricambio per i fusti Cornelius Keg lato birra e una sfera galleggiante con tubo in silicone, tipo quelle del framezilla. Innanzitutto ho tagliato il tubo in modo da creare uno spezzone corto per il gas e uno più lungo per la birra. Ho creato sul tappo un foro per il tubo birra di fianco a quello già presente centrale che utilizzerò invece per il gas. Ho tagliato di misura il tubo di silicone in modo che alla sua massima estensione potesse arrivare dritto in fondo alla botte. Ed ho inserito il tubo in silicone con la sfera lato birra. Per poter connettere i due tubi ho preso semplicemente un paio di raccordi John Guest di misura 7 sedicesimi che è perfetta e va intenuta con i tubi dei Cornelius Keg. A questo punto è sufficiente trattare la botte esattamente come se fosse un fusto. Infatti se si lavora a basse pressioni non c'è assolutamente nessun rischio e la botte tiene senza problemi. Per facilitarvi nelle varie operazioni di spurgo, saturazione e riempimento è possibile mettere in linea due rubinetti John Guest in entrambi i tubi. Purtroppo non ho filmato il trasferimento in botte del Barley Wine ho però fatto alcune foto del trasferimento della birra successiva che è stata una quadruple che appunto ho trasferito qualche giorno fa dal fermentatore alla botte. Ora innanzitutto come vedete dalla foto ho utilizzato delle grosse fascette per poter tenere chiuso e sigillato il tappo sopra la botte e non avere sorprese di esplosioni. Ora per prima cosa è necessario saturare di CO2 la botte. Essendo una birra che starà dentro molto tempo e non è così tanto sensibile all'ossidazione anzi un po' gli può anche fare bene essendo un Barley Wine non serve avere le accortezze che si tengono solitamente quando si vanno a saturare i fusti e imbottigliare ad esempio birra appunto molto incline all'ossidazione. Quindi è sufficiente collegare la bombola lato birra e desaturare con un rubinetto lato gas. La pressione che ho impostato è di circa 3 psi più che sufficiente per poter effettuare il trasferimento. Una volta che la botte è satura chiudiamo entrambi i rubinetti di birra e gas e ci prepariamo per riempirla. Come vedete la configurazione è molto semplice ed è identica a quella per l'infustamento. Ci basta infatti una sola linea del riduttore di pressione della bombola che andremo a collegare all'ingresso gas del fermentatore per dare la spinta alla birra. Ci sarà poi il tubo birra che collegherà i due lati birra di fermentatore e botte tra loro. Per ultimo nel tubo gas della botte è necessario mettere un rubinetto come nel mio caso oppure una spunding valve che fungerà da valvola di desaturazione. Ora sempre per il solito concetto della contropressione che già conosciamo a memoria dando al fermentatore la stessa pressione a cui abbiamo saturato la botte e aprendo piano piano il rubinetto di desaturazione della botte la birra inizierà a passare. Dopo circa una decina, quindicina di minuti la botte sarà piena e il processo è concluso. Per capire quando la botte è piena la si può pesare su una bilancia come si fa con i fusti. Io invece ho preferito riempirla all'orlo fino a quando la birra non è uscita dal rubinetto di desaturazione e poi togliere il tappo e eliminare la birra in eccesso dal rubinetto della botte. Metodo più casinista ma anche più semplice in realtà. Una volta che la botte è stata riempita io di solito non tengo quel tipo di tappo sulla botte durante la maturazione. lo tolgo e lo sostituisco con un semplice tappo con foro centrale sul quale applico per i primi giorni un blow off che mi evita eventuali problemi di schiuma in caso la fermentazione non fosse stata conclusa nel fermentatore continui all'interno della botte. Quando poi vedo che la fermentazione è conclusa che non c'è più gorgogliare che non c'è fuoriuscita di schiuma sostituisco questo blow off con un semplice gorgogliatore. Lascio il gorgogliatore poi per i mesi di maturazione della birra. Non sono un grandissimo esperto di botti però diciamo che sulla carta o comunque i consigli che mi hanno dato gli amici sono che quando all'assaggio che faccio ogni tot settimane sento che la birra ha preso quel carattere tanninco e quel carattere di botte è ora di imbottigliarla. Quindi dopo quattro mesi mi è sembrato che la birra fosse abbastanza eccessiva per quanto riguarda appunto il carattere di botte e ho proceduto all'imbottigliamento che vedremo però nei prossimi video. Il video di oggi spero che sia servito e che possa servire non soltanto per poter trasferire la birra dal fermentatore alla botte che magari è un concetto un pochino più avanzato e che ad alcuni potrebbe non interessare ma anche proprio per poter trasferire birra a bassa pressione quindi birra non carbonata da un fermentatore a un altro contenitore. Ad esempio se lavoriamo con dei fermentatori a fondo piatto magari facciamo una lager è possibile avere la necessità di poter trasferire birra senza ossidare quindi in contro pressione da semplicemente un fermentatore a un altro entrambi a fondo piatto entrambi di plastica entrambi classicissimi. Ok? Quindi questo metodo è proprio un metodo di trasferimento in contro pressione classico. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto vi do appuntamento ai prossimi video e ciao ciao sigla! Ski 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 Sì